Buongiorno, io sono Cesare Cavalieri, sono il direttore sportivo del settore giovanile dell'FBC Saronno. Volevo parlarvi della squadra del 2001 che l'anno scorso ha fatto molto bene, ha vinto il campionato, sia per quanto riguarda siamo arrivati i primi e poi abbiamo vinto anche la Coppa delle finali. Adesso attualmente si stanno allenando perché stiamo facendo l'ultimo Open Day per vedere qualche ragazzo interessante per poter rinforzare la squadra. Quest'anno volevamo puntare ai regionali perché secondo me il materiale che avevamo era già buono, in più riuscendo ad inserire qualche elemento importante, non faccio nomi ma ci sono tanti giocatori che sulla piazza si conoscono e questo è il nostro obiettivo principale. Sono convinto che lavorando ancora con il nostro mister in Burgia che l'anno scorso ha fatto molto bene potremmo raggiungere questo traguardo. Più del che avevo detto prima del 2001 che diciamo che è la squadra un po' più blasonata, abbiamo anche tutte le altre squadre, il 2002, 2003, del 2004 fino al 2011. Abbiamo potenziato molto anche il settore giovanile dei piccoli, tra l'altro l'anno scorso hanno vinto il campionato sì, il 2006 sui 2007 e quest'anno facendo un piccolo Open Day sono già arrivati su una quarantina di ragazzi dai 2010 ai 2005. Forse riusciremo a fare anche qualche squadra doppia perché purtroppo i ragazzi arrivano e giustamente noi non vogliamo mandarli via, anzi abbiamo preso dei mister qualificati, molto validi e speriamo che riusciamo a fare un campionato come è stato fatto l'anno scorso. Eravamo partiti con 70 ragazzi il primo anno e adesso siamo circa in 180. Abbiamo bisogno di una cosa importantissima che si sblocchi un po' la situazione stadio per poter alleggerire il centro Matteotti con tutti gli allenamenti che ci saranno da fare dalla prima squadra ai piccolini. Se noi riuscissimo a snellire con prima squadra, Uniones e allievi giocando là, anche qui avremo un po' più di spazio e secondo me si potrebbe lavorare meglio.